C'è qualche problema, gente? James Lindsay, eh? Jim. Devo chiederle di scendere, signore. Capitano Bishop? Capitano Bishop, rispondi. Angela! Salve, signor Lindsay. Becca, scotto. Forza, Ox! Questa è la mia vita. Un lupo tra gli agnelli. Chi sono? Ragazze scomparse. Nessun corpo, nessuno schema. Le persone non possono sparire e basta. C'è sempre un motivo. Se avesse ragione, quante altre vittime ci saranno lì? Non lo so. Tu sei un serial killer. Adori farla franca con gli omicidi. Non vedi l'ora di uccidere di nuovo. Non hai imparato nulla. Non ti vergognare, tanta gente ha la nausea alla vista del sangue. Mi succede tutte le volte. E' un mondo spaventoso lì fuori. I mostri camminano in mezzo a noi. Sarò anche un mostro. Ma solo un mostro che si evolve. Che stai facendo? Sei Dexter Morgan? Sono io. Tuo figlio. Erizona.